Allora, dovete fornare giù al ragazzo in un'opetà, e la stazione può essere pericolata in un'opetà. Non portate, non portate, non portate, non portate. La stazione può essere pericolata in un'opetà. Pronto. Non dire mai la parola backup. Cosa? Non dire mai la parola backup. Ma vaffanculo. Ma chi cazzo è? Ehi, sono mamma. Oh, scusa mamma. Sì, sì, rispondi al telefono. Che succede? Eh, no, niente. Mi ha chiamato uno e mi ha fatto uno scherzo. Un scherzo? Dopo tutto quello che è successo, roba davanti. Vabbè, non ci pensare. Eh, lo so, ma mi ha detto di non dire mai la parola backup. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.